È evidente che l'Italia, che di solito è sempre il fanino di coda d'Europa per crescita quando le cose vanno bene e del paese che invece decresce di più quando le cose vanno meno bene, parte in una situazione più svantaggiata rispetto agli altri e di fronte a un'epidemia di questo tipo che sconvolge il mondo è chiaro che bisogna metterci in condizioni di estrema urgenza per reagire a quello che può accadere, tanto più se pensiamo a quanto siamo esposti nel commercio internazionale, siamo il secondo esportatore europeo e quanto le nostre aziende purtroppo potranno risentire da questo. Purtroppo vedere dati come questi che prevedono una recessione per l'Italia ci fanno temere che possa essere vero. Il motivo per cui noi, Italia Viva, continuiamo a dire che non bisogna fare polemiche continue su questioni di politica nazionale di poco conto è che l'economia è davvero la prima tematica su cui bisogna intervenire. Noi il giovedì presenteremo alla Camera il nostro piano Italia Shock, che è un piano di sblocco di 120 miliardi di opere pubbliche e sappiamo quant'è l'impatto delle infrastrutture sulla crescita del PIL. Se questo era un piano che andava bene il 15 novembre quando è stato previsto diventa ancora più urgente adesso in questa condizione. In più, e parlo di qualcosa che forse sembra meno di impatto immediato ma che nel lungo periodo potrà aiutare la crescita economica, noi abbiamo una proposta di legge, la mia prima firma, lo Start Act che arriverà in Commissione di Attività Produttive giovedì sulla trazione di investimenti privati e la creazione di nuove aziende, le cosiddette start-up che sono il futuro degli ecosistemi economici di tutti i paesi. Ecco, focalizzarci su quello e sulle cose che possono essere fatte per attrarre investimenti dall'estero e muovere quel risparmio che in Italia è fermo è la reale urgenza, meno le polemiche politiche che purtroppo questo governo in questo momento sembra subire. Io trovo che sia un'enorme mancanza di rispetto verso i lavoratori in primis e verso il governo. Non ho idea di perché abbia agito così se non per farlo più velocemente possibile senza controlli. Noi abbiamo presentato una richiesta di Question Time appunto nella giornata di mercoledì al governo per avere indicazioni su come il governo intende affrontare questa situazione che è grave per le 1500 famiglie di lavoratori coinvolti, così come per l'intero sistema turistico italiano già prostrato dalla situazione assurda di Alitalia. Dal nostro punto di vista speriamo si possa arrivare ad una soluzione che possa tutelare quanti più posti di lavoro possibili. Auspichiamo che ci sia un dialogo e si apra un dialogo, perché noi siamo contrari a un intervento dello Stato nell'economia come ha auspicato anche in passato per Alitalia e tantomeno in questo caso. Però che una soluzione vada trovata per tutelare il più possibile posti di lavoro... Non se la compro strato, meno lo Stato fa l'imprenditore, meglio è. Questa è una regola che purtroppo anni e anni di Stato imprenditore inefficiente ha dimostrato. Vanno salvati i posti di lavoro il più possibile, ma non chiediamo allo Stato di tornare a fare l'imprenditore. Grazie a tutti.